Neanche detto, è un ericotero, va bene. No? Vediamo. Ah. Seconda posizione al momento. Dai, tienilo. Sì, penso che sia seconda. Vediamo comunque come si comporta. Ma cosa? Ma dai! Ma ha fatto meglio di altri, occhio! Ha evitato il bus? No, dai! Abbiamo la prima posizione! E non so questo se riesce a prendere un segnalino, vediamo. Magari ci atterra bene. No, che sbanda. Premio buffone, forse? E' bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati al mio canale qua su YouTube. Oggi, come potete vedere anche da titolo, siamo ritornati dopo moltissimo tempo su GTA V. Ma soprattutto sulle mega rampe ignoranti nel primo torneo ufficiale di questo canale. Oggi siamo alla sesta selezione, oggi vediamo chi saranno i fortunati vincitori. E vi ricordo solo di iscrivervi al mio canale con campanella attiva per non perdervi i prossimi video. E' un elicottero che girato, comunque, è un elicottero che è girato, è un elicottero che è girato o no comunque in questa rampa. E' un'elicottero che è un'elicottero che è un'elicottero che è girato. Allora siamo qua con il farmer, c'è scritto farmer nel mio... Scrivete qua sotto in commenti come dovremmo chiamarlo. Ok, io direi la rampa è sempre quella, quindi... Sì, la rampa è sempre quella, quindi non serve utilizzare il veicolo da test perché sappiamo già come funziona. Ma se non sapete andate a rivedervi i scorsi episodi, oppure vedete anche questo che si capirà nel video, come è dove vanno le auto e tutto quanto. Abbiamo detto comunque no, moto, non biciclette perché non si riesce a saltare e ovviamente non elicottero, aerei, queste cose, le barche, sì, tipo... Comunque iniziamo, prima veicolo random. Neanche detto, è un'elicottero, bene. No? E va lenta, va lenta. Inca blista compact, penne sportiva, va bene. Iniziamo, vediamo dove va. No. Ci passo? Dai che ci passo! No. Vabbè, questo non entra neanche in classifica. Vabbè, dai, che salto storto. Vabbè, intanto poi una posizione, benissimo. Io spero di avere il non-wanted. Ok. Oh, cosa abbiamo qua? Founder Custom. Mmm, il camion, non so però se va, eh. Ecco, già tocca sotto. Ok, vai. Vediamo. Ah. Seconda posizione al momento. Dai, tienila. Sì, penso che sia a seconda. Sì. È seconda. Prossimo veicolo random. Oh. Ah, il caro è smesa. Vai. Se la prende bene, eh, poteva prenderla meglio. Occhio! Poteva prenderla molto meglio. C'era un parcheggio, faceva un parcheggio challenge. Incredibile. Il, ehm, Fonder Custom. Pretocede, già. Prossimo veicolo random. Elicottero, no. Questa, sì. Coin. Stich clone. Dai, che forse. È elettrica questa. Vediamo se la prendo abbastanza bene. Beh, dai. Dai, devi atterrare bene per ora. No, dai, che atterraggio. No. Ma no. Prossimo veicolo random. Motocicletta, no. Elicottero, no. Questo? Nice squash. Vediamo. Non so se si pronuncia così. Poi vediamo se merita. Si dovrebbe prendere... Forse premio asino. Tacco di patate. Attenzione che questo può essere un premio asino. Ed è un premio asino. Il Ponder esce dalla classifica. Quindi vediamo che veicolo Assa Sackwatch Prossimo veicolo random Akankuruma blindata Questa forse E alle sirene? Dai bel salto Ah dovrei fermare il tempo però qua No nel tetto Prendilo il slancio no No Però? E non so Perché la rampa è così Questa è andata più di qua Quindi secondo me non ha posizione Eh sì perché Poteva essere seconda ma doveva essere più in alto qua Niente posizione Peccato Prossimo veicolo random Cos'è? M.T.L. Wasterland Di servizio Non so Se fa qualcosa Vediamo Beh diciamo che è alto Forse può fare qualcosa Ma non è detto Beh dai Un bel salto Se atterra bene può prendere dei metri Però non so se trova posizioni Eh ma non fa niente Non atterra bene Ma dai Prossimo veicolo random Oh cos'è? La Pegassi tempesta? Vediamo Occhio Questa corre Però mi sa che è bassa E non so Si è danneggiata davanti Però sembra che non si sia spostata più di tanto Però atterra bene Uh se atterra bene Prende No no È sbandata però È una prima posizione Penso proprio No attenzione Eh siamo lì Ma secondo me Sì è una prima posizione Questa eh Anche se La rampa Ma questa Secondo me Questa è una seconda Questa è la prima Si giusto Giusto Questa è la Pegassi tempesta Abbiamo detto Giusto Prossimo veicolo random Oh che veicolo è? Tinka Kanjo SJ? Vediamo Dai se va Bene bene Dai che ci siamo Cos'è volato lì? Un finestrino? No ma dai Ok Fa un po' Babbo Natale Ok Vediamo cosa ha fatto Niente di che Prossimo veicolo random? Un altro camion L'AMTL Brickade Vediamo cosa fa Oh Attenzione Forse per mio asino C'è buffone Il mio buffone Occhio Sì ma Non sto neanche fermo Questo che sa Attenzione Eccolo qua Il nuovo Pambio buffone E come siamo? Ok Prossimo veicolo random Prossimo veicolo random L'AMTL L'AMTL EBRURIOSO 300 Io non so se fa qualcosa questa La vedo dura ma vediamo dai E anche per mio buffone perché Mi sa che corre troppo per il premio buffone Vediamo comunque come si comporta Ma cosa? Ma dai Ma ha fatto meglio di altri Occhio Ha evitato il bus? No dai Abbiamo la prima posizione Ma veramente? Che dire Vediamo È la prima posizione questa Qua ce ne sono tante Mettiamo questa Attenzione Prossimo veicolo random Wow Eccolo E vediamo Se fa una posizione decente Anche questa Sembra abbastanza Bene Devi atterrare però Ok Bene È una nuova prima posizione Ci sono tante prime posizioni qua Prossimo veicolo random La caro insulta Vediamo Magari anche questa Fa una prima posizione E questa non ha saltato Come le altre Però vediamo Ah non devi atterrare Sul tetto però Appunto Vediamo Niente Ah Andi in cablista Occhio Vediamo la brista Cosa fa Vediamo C'è a terra Abbastanza bene Dai Sì Bell'atterraggio E fa la prima posizione La brista In prima posizione Incredibile Prossimo veicolo random Wow Il bravando Bison Ok il bison Vediamo Vediamo Vai Si avvicina Si avvicina Ma non penso Vediamo Niente segnalino Prossimo veicolo random Oh cosa abbiamo Oh cosa abbiamo E quel Antiso mossa polizia Ok Non avevo letto bene Vai Vai Occhio Eh no Niente E anche Fa anche un brutto Atterraggio Incredibile Uh che schivata No però niente Niente Di che Lasciamo che si fermi Ma non penso Vediamo No Prossimo veicolo random Alla vento Il bull Il bull Quindi ok È un SUV E andiamo Vediamo Questo cosa fa Wow Dai Non male Però bisogna Un po' Vivare A sinistra Se no Becchiamo le palme Mi ha toccata Ma Attenzione Che c'è un segnalino Probabilmente Oh mi ha spinto Lui Quindi vale No Per poco Eh va quasi La terza posizione Ma niente Quarta Vabbè Mettiamo Questo segnalino Qua Ok Comunque Prossimo veicolo Random Uh l'autobus Ah la naveta Ah quella Dell'aeroporto Vediamo Occhio Non so Se riesce a fare Qualcosa Vediamo Oh Girati E niente Fa Babbo Natale Anche questa Fa più Babbo Natale Dell'altro Veicolo Che Era prima Prossimo Veicolo Random Uh Cosa abbiamo Il Il De Classe Brutus Incubo O Comunque Pochi Fulgoni Oggi Meglio Così Perché Intanto In questa Rampa Non vanno Comunque Pochi O Veicoli Che non Hanno Le botte Diciamo Non ce ne sono È restato Lì L'autobus Comunque Uoh Inderrapata Va bene Però Niente Segnalino Ovviamente Andy Sucker Proviamo Che sia Andata via La barca Che se no È un problema Ok Dai Vediamo Se A te Va bene Forse Forse No Niente Atterraggio Bruttissimo Lo sapevo Prossimo Veicolo Random Wow Bene Facto XLS E Andiamo Vediamo L'atterraggio Si a te Va bene Vediamo Dai Dai Sì Bene Bene Una seconda posizione Forse O terza Anche seconda Secondo me No Terza Però Sì Prossimo Veicolo Random Vediamo 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 Cosa fa Occhio Si a te va bene No Anche si a te va bene Ok Fa tutto Prossimo Veicolo Random Cosa abbiamo Qua Occe L'OF620 Vediamo Mi sa che Qua Possono solo Veicoli con ruote Comunque Andare Tipo Bulk Treni Quelle cose Mi sa che Non si riesce Però Vabbè Occhio Atterraggio Bruttissimo Quinto Ultimo Veicolo Si può Dire Il Boot Boxville Abbiamo Detto Che Non Sono Siete Tanti Furgoni Eccola Uno Ecco E si Ferma I Furgoni Non Riescono A Saltare Tanto Bene Questa Lampa Se Io Mi Tengo Così Sì Dai Però Non Fa Niente Di Che Mi Sa Vediamo Ma Bene Vediamo Mi sa Proprio Di No Niente Segnalino Qualt'ultimo Veicolo Cos'è Questa Cosa Il Sarabin Cubo Ma Come Si guida Non ho mai Guidato Io Questo Così Sì Dai Che va No Che sbanda Fai Mio Buffone Forse Romberg Vediamo Regoliamolo E Questo Mi Sa Che È Anche Un'arma Per Sparare Sembra Forse Che C'è Il Puntatore Comunque Niente Segnalino Terzo Ultimo Veicolo Brutus Apocalisse No Va Sui Tetti A fare Babbo Natale Appunto Attenzione Penultimo Veicolo Random Cosa Abbiamo Qua Il Vapid Of Knife Ma Cosa Del Genere Cos'è Successo Teniamoci Un po' Più A Sinistra Allora Ok Una volta Danneggiata L'auto Non si può Più Aggiustare Ovviamente Ovviamente Non è ovvio Veramente E niente Vediamo Se salta Da qua Non salta Ultimo Tentativo Se no È Eliminata Niente Non va Più Avanti E Cambiamo Auto Bocca TXL Rapid Bocca TXL Occhio Va bene Bene Vediamo Se a te Va bene Niente Prossimo Veicolo Random Ultimo Veicolo Random Veramente A Zeno Anche Questa Vediamo Se fa Qualcosa Vediamo Se fa Babbo Natale No Neanche Babbo Natale Non fa Proprio Niente Appunto Niente Di Che E Quindi Questo Video Termina Qua Siamo Una cosa Del Genere Vai Ok Quindi Questo Video Termina Qua Grazie Mile Per Aver Visto Questo Video Vi ricordo Di Iscrivermi Canale 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 Con Attiva Per un Poi Dei prossimi video Lasciate Un Like Se il video Vi è piaciuto Condividete Sostenetemi Ancora Seguetemi Su Instagram Per Vedermi Sulla Novità Guardate I miei Canali Tutti I Sono Sotto In Descrizione Anche Per Acquistare Gioco Spontato Se volete Vi ricordo Anche Che Faccio Live Appena Vi Esco Appunto Vi Avviso Su Instagram Quando Le Vi Chor Vi 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 Grazie per la visione!